buongiorno oggi mi trovo a chiasso e quello che vi sto per mostrare è un bel appartamento di tre locali questa è l'entrata questo appartamento si trova al secondo piano ma ne abbiamo disponibili anche uno al primo e uno al terzo piano entriamo e questo quello che vedete davanti a me è il soggiorno spazioso con un piccolo balcone che affaccia sul giardino condominiale delle palazzine dietro questo muro abbiamo la cucina che è semi separata completa di frigorifero con piccolo congelatore lavastoviglie lavandino vetro ceramica forno e una finestra torniamo verso l'entrata davanti proprio l'entrata abbiamo il bagno che è completo di vasca da bagno lavandino specchiera e vc infine abbiamo le due camere da letto sulla mia sinistra abbiamo una prima camera da letto singola questa non è molto grande molto lunga ideale come studio ideale come cabina armadio ideale come camera per un figlio diciamo che questo appartamento ideale per una coppia qui accanto abbiamo invece la camera matrimoniale a disposizione dell'appartamento c'è la lavanderia condominiale questa è la vista dall'altra camera ripeto la lavanderia è condominiale c'è una cantina se vi è piaciuto questo appartamento e volete venire a vederlo dal vivo chiamateci subito ti affitto ciao